buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi andiamo a vedere un'altra piattaforma che gira sulla bianna smart chain è una piattaforma di landing su defy chi si chiama alpaca finance è una delle poche piattaforme che permette anche il farming con leva anche se una cosa che vi sconsiglio perché c'è un altissimo rischio di impermanente loss andiamo a vedere il suo funzionamento dopo la sigla su defy station su biana smart cene e andiamo ad analizzare la piattaforma di defy numero sei in classifica quest'oggi una piattaforma di landing si chiama alpaca finance ha ottenuto ben due o dit clicchiamo col tasto sinistro del mouse su alpaca finance per poi andare ad atterrare sul sito ufficiale cliccando su official website prima di addentrarci in questa piattaforma andiamo un attimo su coin market cap alpaca finance è un token a rank 1109 nella watch list di 9.000 persone su coin market cap si attesta con un valore di 0,65 centesimi di euro e nelle 24 ore come la maggior parte delle cripto valute a un'oscillazione negativa in questo caso dell 8,07 per cento avrà un rifornimento massimo circolante di 188 milioni di token il rinforimento attuale e pare al 4 per cento della total supply ovvero quasi 7 milioni di token è acquistabile su diversi exchange gate punto io mxc open ocean hot bit e ovviamente pancake swap per poter utilizzare questa piattaforma come tutte quelle che girano sulla bianna smart chain ovviamente bisogna utilizzare meta mas che come sapete io sono affezionato a meta mas che quindi ho impostato meta mas che sulla bianna smart chain se non l'avete ancora connesso vi lascerò il link in sovraimpressione per riuscire a connettere la bianna smart chain a meta mas che comunque se andate a vedere anche sui video nella playlist di bainas troverete i tutorial dedicati supponiamo che abbiate già connesso meta masca la bianna smart chain basterà andare su lancia app in automatico l'applicazione andrà a connettersi col nostro wallet in alternativa se non si connetterà in automatico basterà andare su connect wallet selezioniamo meta mas che accettiamo con la firma digitale dello smart contract e come vedete dove c'è scritto connected celli la prima parte del mio address arrivati alla schermata iniziale noi troviamo la prima voce land perché come avevo detto è una piattaforma principalmente di landing dove noi andiamo a prestare ad esempio il token alpaca e ci darà l'1,21 per cento per il landing 25,01 per lo stechi totale e più ai del 26,22 per cento quando possiamo depositare o prelevare i nostri alpaca lo stesso e depositando bnb usd tether bitcoin o e tiro noi possiamo ottenere questi interessi i token che andiamo a generare ci servono eventualmente se vogliamo andare su stake come vedete possiamo andare a mettere in stake e ibi alpaca con un api del 28 per cento ibi alpaca dove li vado a ottenere andando alla voce land noi da questa parte possiamo andare a depositare alpaca per avere in cambio ibi alpaca da usare nello steak mi farò vedere pian piano tutti questi passaggi prestando alpaca noi possiamo andare a ottenere ibi alpaca quindi una volta ottenuti li possiamo andare a mettere in stake la stessa cosa lo possiamo fare con bnb usd e ibi usd un pochino più complicata invece la prima voce alpaca con frappe in bnb per avere un api del 141 per cento perché per ottenere questi frappe in bnb dovremmo seguire questa guida passo passo dovremmo andare ad aggiungere liquidità a pancake swap in questo modo clicchiamo su lp token here andiamo alla guida quindi seguendo passo passo questa guida che vi lascerò linkata in descrizione al guida al video bisogna cliccare su exchange pancake swap finance cliccare su liquidità e andare a selezionare la liquidità che noi vogliamo dare ovviamente adesso non ho abbastanza fondi comunque se impostando quanti bnb vogliamo aggiungere alla qui dita la liquidità clicchiamo su massimo in automatico ci viene imposto quanto dobbiamo avere nel portafoglio anche di alpaca perché dobbiamo aggiungere sia bnb che alpaca nel caso ci fossero i fondi sufficienti si andrebbe a fare lo swap per ottenere bnb lp token mi raccomando prima di fare tutte queste operazioni soprattutto se non avete praticità all'interno delle liquidity pool dei decks decentralizzati e di questi sistemi mi raccomando fate sempre attenzione approfittate di questi documenti che si possono trovare esattamente in questa schermata se noi andiamo nella home page clicchiamo su docs ci apparirà tutto il funzionamento di alpaca finance le fie una strategia e la token omics come funzionano le liquidi di pool il farming lo staking mi raccomando andate prima di fare tutte queste operazioni a visionare questi documenti cliccate col tasto destro del mouse fate traduci in italiano e cercate di capire comunque in autonomia il suo funzionamento e passo per passo per evitare errori il più possibile tra funzionalità che troviamo all'interno di alpaca finance che è veramente particolare è la possibilità di fare il farming con leva fino a un massimo di una leva per tre adesso ad esempio con alpaca usd team con leva 1 abbiamo 149 87 per cento possiamo arrivare fino al massimo di una leva 2 e 50 per ottenere 789 72 per cento ovviamente come nel trading con leva anche il farming con leva è molto molto rischioso però comunque in descrizione link dei documenti di alpaca finance per andare a vedere il funzionamento del farming con leva attenzione perché come ho detto un interesse così alto equivale ad avere un rischio molto molto elevato di impermanente loss andiamo a vedere come acquistare alpaca faina ci spostiamo su buy nance ovviamente dobbiamo avere nel portafoglio nel wallet spot bnb clicchiamo su preleva selezioniamo bnb ci spostiamo su metamask metamask ovviamente deve essere connesso alla baena smart chain copiamo l'indirizzo lo andiamo a incollare su buy nance in automatico ci prende l'indirizzo buy nance martin e quindi abbiamo copiato all'adretto esatto selezioniamo la quantità che vogliamo trasferire in questo caso io voglio trasferire al massimo clicco su prelievo confermo e vado a compilare i dati richiesti compilo i dati confermo la transazione e adesso aspetto qualche minuto che i miei bnb da bainas vengano trasferiti a metamask baina smart chain perfetto i miei bnb sono arrivati su metamask adesso vado a comprare alpaca clicco su buy si apre pancake in alto a destra come vedete c'è il mio address e qui è apparso il balance il totale dei miei bnb inserisco l'importo che voglio convertire in alpaca metterlo 0,07 riceverò 30,65 alpaca faccio lo swap confermo in automatico si apre metamask conferma la transazione e vedete io andrò a ricevere i miei alpaca direttamente su metamask perfetto come vedete mi è sceso il totale di bnb e io come balla so 30 alpaca mi sport mi sposto su metamask andiamo a vedere se sono stati aggiunti mia alpaca in automatico non lo riconosce quindi devo andare su aggiungi token facendo aggiungi token dovrò coprire l'address del contratto di alpaca dove lo posso prendere ad esempio tornando su alpaca finance su coin market cap cliccando su contratto faccio copy address mi risposto su metamask aggiungi token incollo l'address e in automatico vedete che è uscito alpaca decimale 18 clicco avanti aggiungi token e vedete che mi ha aggiunto i miei 30 alpaca a questo punto cosa faccio attorno su alpaca finance voglio depositare nel landing pool alpaca faccio deposita vedete che mi sono apparti i miei 30 alpaca faccio massimo e riceverò 30 punto 62 ib alpaca faccia prova in automatico avvio lo smart contract vedete che qua sta lavorando la transazione sono andato a ricevere 30 punto 62 ib alpaca volendo possa andare a fare lo staking ib alpaca approvo confermo la transazione la transazione è andata a buon fine come vedete io potrei fare anche direttamente all on stake ma lasciandolo in stake vado a prendere un interesse che vedete matura e lo vado a guadagnare in token alpaca in questo caso vado a tenere un e più a del 28 per cento e dopo sono anche utilizzare i miei bnb che sono rimasti all'interno di meta mas che facendo deposit non faccio proprio il massimo perché mi lascio sempre qualcosa per pagare eventuali fi e vado a cliccare conferma ok ora che ho ricevuto i miei bnb vado di nuovamente in stake seleziono i b bnb massimo approvo faccio di nuovo il procedimento di prima e vado a mettere in stake per ottenere di nuovo alpaca all'interno di questa piattaforma come vedete anche quale ricompense stanno aumentando e le andrò poi a ritrovare sommate tutto su herned alpaca facciamo lavorare il nostro staking e poi ogni tanto volendo andiamo a prelevare le nostre ricompense ovviamente prelevando le ricompense si pagherà una piccola fine quindi è consigliato non farlo tutti i giorni ma magari una volta alla settimana clicchiamo su claim conferma attendiamo che la transazione venga eseguita una volta che la transazione eseguita noi andremo a vedere andremo a trovare i nostri alpaca all'interno del nostro wallet e poi potremo trasferirli tranquillamente su meta mask bene ragazzi siamo arrivati anche per oggi alla fine di questo video se è stato di vostro gradimento e l'avete trovato utile lasciatemi un like per aiutarmi a essere indicizzato su youtube iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto ed unitevi alla nostra community telegram prima di salutarvi vi ripeto di leggere tutti i documenti che trovate all'interno del sito di alpaca finance per riuscire ad operare al meglio questa piattaforma anche perché nel video per problematiche legate al tempo dove i video non superano mai 10 massimo 15 minuti veramente difficile se vanno oltre non sono riuscito magari a farvi vedere tutte le funzionalità o spiegarmi completamente la token omics e altre piccole funzionalità mi raccomando approfittate di questi documenti per fare un po di cultura generale all'interno di alpaca finance vi lascerò comunque tutti i link in descrizione e vi lascerò anche link in descrizione della community telegram di alpaca finance italia dove potete chiedere tutto quello che volete ciao a tutti a domani